Un'altra tappa del progetto di cittadinanza attiva curato dalla struttura di comunicazione e informazione ed editoria. Nel giorno della Festa dell'Europa, che si celebra il 9 maggio, le classi 4A, B, C dell'Istituto Comprensivo 2, Scuola Primaria di Policoro Giovanni Paolo II, accompagnato dai docenti, sono state ricevute dal Presidente del Consiglio regionale Mollica, dal Vice Presidente dell'Ufficio di Presidenza Castelluccio, dal Consigliere regionale Napoli e dal Garante per l'infanzia della Regione Basilicata Giuliano. Gli studenti, come spiega l'insegnante Stella Bonavita, durante questi mesi hanno seguito un itinerario didattico con la lettura in classe dei quotidiani e il commento dei principali avvenimenti. I bambini infatti sono stati preparati per un percorso di educazione alla cittadinanza, quindi è una uscita didattica, educativa soprattutto, che permette loro di parlare di queste tematiche che spesso leggono sui giornali, in quanto queste sono classi che leggono quotidianamente, il giornale. Durante l'incontro i bambini hanno posto domande su argomenti diversi, dall'ambiente alle politiche di accoglienza degli immigrati al potenziamento delle infrastrutture. Da parte dei rappresentanti istituzionali presente all'incontro parole di ringraziamento ai docenti per i progetti formativi proposti che accendono i riflettori su argomenti di grande attualità e ai bambini per l'interesse dimostrato.